Dopo la visita privata alla grotta della Natività di Betlemme, Papa Francesco ha raggiunto il Phoenix Center, del campo profughi di Deisce, dove ha incontrato i bambini palestinesi che vivono in questo campo e in quelli di Aida e Beit Ibrin. I bambini hanno accolto il Papa mostrando dei cartelli con scritte di denuncia, cristiani e musulmani vivono sotto l'occupazione, oppure io non ho mai visto il mare. Un bambino ha salutato il Papa parlando in italiano e ha detto che da 66 anni i loro genitori subiscono l'occupazione. Vogliamo dire al mondo basta sofferenze e umiliazioni. Il Papa ha ringraziato i bambini per il loro messaggio e parlando in spagnolo ha spiegato di comprendere le loro parole e ha chiesto di non lasciare mai che il passato determini la vita. Guardate sempre avanti, lavorate e lottate per ottenere le cose che volete. Poi ha ricordato che la violenza non si vince con la violenza, la violenza si vince con la pace, con la pace, con il lavoro, con la dignità di far andare avanti la patria. Grazie.